Nel toto di S del Taranto irrompe prepotentemente il nome di Danilo Pagni, già di S di Ternana e Viterbese, ma soprattutto dirigente ionico, nella seconda metà degli anni 2000 con la gestione della presidenza di Luigi Blasi. Pagni ha incontrato nella mattinata di venerdì il patron tarantino Massimo Giove e Vittorio Galigani, con cui lo stesso Pagni aveva lavorato proprio nel taranto targato Blasi, un colloquio proficuo tra le parti con il dirigente calabrese da noi contattato, che ha dichiarato di essere stato favorevolmente impressionato dalla famiglia Giove e felice per aver rivisto l'amico Vittorio Galigani. Sposare il progetto taranto è fattibile a determinate condizioni. Una di queste potrebbe essere l'ammissione nella CID Elite da parte del taranto, magari con Gaetano Auteri in panchina. Se sono rose fioriranno, del resto sognare non costa nulla e la data del prossimo Consiglio federale del 4 giugno potrebbe essere decisiva per la riforma dei campionati.